Paura di ricadere nelle vecchie abitudini e nell'obesità? Oggi parliamo di sgarri e delle regole dell'1%, ovvero come le cose potrebbero andare molto peggio, ma anche molto meglio. Sono stato obeso per 20 anni, ma due anni fa ho trovato il coraggio di affidarmi alla chirurgia bariatrica. Grazie alla sleeve gastrectomy ho vinto la mia guerra contro obesità, diabete, ipertensione, apetene notturne, steatosi epatica. Da allora racconto il mio percorso in questi video, perché la mia storia possa aiutare altri a trovare la loro strada per guarire dall'obesità. Se vuoi supportare questo progetto basta iscriversi al canale, guardare video, lasciare like e i tuoi commenti, ma soprattutto condividi questi video su tutti i tuoi social. La paura che l'intervento possa fallire, non avere dei risultati a lungo termine, tipicamente ce l'hanno quelli che si stanno avvicinando alla chirurgia dell'obesità e quelli che ormai l'hanno fatta da più di un anno, perché in mezzo c'è quel periodo che ho chiamato l'una di mele bariatrica, dove tutto sembra veramente facile, tutto va veramente liscio e quindi c'è una bella dose di ottimismo che è del tutto fondata. Ma il prima e il dopo forse può beneficiare di una mano e di una spiegazione più approfondita. Perché dopo essersi dati pena di sottoporsi alla chirurgia dell'obesità dovrebbe preoccuparsi di fallire e di tornare indietro? Beh, il motivo è abbastanza semplice, perché tutto sommato se siamo arrivati all'obesità grave è perché qualcosa nella nostra vita non l'abbiamo gestito nel modo più furbo e più saggio. Quindi è una paura lecita e in un certo senso anche sana, perché può spingerci a prendere provvedimenti per fare in modo di non tornare indietro. Il primo e più grande, secondo me, è affidarsi a uno psicologo. Perché la parte, la componente della nostra testa è quella che fa tutta la differenza. Riconoscere la fame emotiva e capire come gestire quegli eventi della nostra vita che ci spingono fra le braccia della fame emotiva, perché la fame emotiva è una risposta alla nostra necessità. Non è un problema, è un segnale. Noi abbiamo questo segnale che ci dice che abbiamo bisogno di gestire delle cose che non riusciamo a gestire altrimenti e le sfoghiamo in questa che sembra fame, sembra bisogno di mangiare, ci attacchiamo alla dispensa e poi il resto della storia la conosciamo tutti molto molto bene. Potrebbero esserci anche altre ragioni, bisogna indagare nello specifico e chi meglio di un professionista, psicologo, psicoterapeuta, psichiatra ci può aiutare a inquadrare la cosa e tenderci una mano per trovare la nostra strada per uscirne nel modo migliore. Se riusciamo ad affrontare questa fetta importantissima delle motivi che ci hanno spinto a diventare obesi, sicuramente possiamo essere un pochino più tranquilli e un pochino più fiduciosi che grossi scossoni non dovrebbero arrivare e se dovessero arrivare abbiamo gli strumenti adatti per affrontarli e gestirli nel modo più sano. Ma ovviamente le cose semplici non ci piacciono e quindi non basta solo quello. Parliamo degli sgarri volontari, cioè siamo arrivati alla dieta di mantenimento, possiamo mangiare qualunque cosa e non è vietato, non è assolutamente vietato, aggiungere qualcosina anche di sfizioso ogni tanto in quello che mangiamo. Il dolce, il cibo più elaborato, insomma qualunque cosa. Bisogna stare attenti che questi sgarri siano tali, cioè delle deviazioni rispetto alla norma, che capitano una volta ogni tanto, non creano nessun problema, ma non devono diventare l'abitudine. L'abitudine è fortissima, l'abitudine ci permette di sopportare delle cose incredibilmente pesanti, incredibilmente sbagliate. Quindi bisogna fare molta attenzione. Del motivo per cui io, a distanza di due anni dall'intervento, ogni spesso, non sempre, ma comunque abbastanza spesso, uso la bilancia per tenere sotto controllo che la quantità di cibo che mangio, soprattutto dei cibi un pochino più particolari, non diventi esagerata. Se sono 100 grammi di carne, non è un problema se oggi sono 110, domani sono 90, ma se c'è un continuo aumento, la cosa potrebbe nel tempo diventare problematica. Mi serve un punto di riferimento per capire che quella continua a essere la strada giusta. Poi, intorno a quel binario, intorno a quella strada giusta, uno ci può fare un po' di zigzag dentro, ma devono essere degli zigzag e stare intorno alla strada maestra. Se deriviamo verso altre strade, lì i problemi possono tornare a galla. E qui incontriamo il famoso fattore 1, o regola dell'1%, che, readattata al nostro mondo, potrebbe suonare una cosa del tipo facciamo finta che ogni mese io aumento di un boccone quello che mangio. Un boccone, cosa volete che sia? Non è assolutamente un problema, ma in un anno sono 12 bocconi. E 12 bocconi vuol dire che abbiamo quasi raddoppiato quello che noi mangiamo. Quindi siamo partiti dal mangiare il giusto, aggiungendo un boccone al mese. Non ci sballa più di tanto il senso di sazietà, perché lo sappiamo tutti, un boccone in più o un boccone in meno, non cambia nulla. Ma in un anno può arrivare a portarci fuori strada pesantemente. La bella notizia è che vale anche il contrario. Cioè, se io mi rendo conto che ho aumentato le dosi, mi rendo conto che non ascolto più bene il senso di sazietà e tutto, se inizio a dire ok, da oggi io lascerò sempre un boccone in più nel piatto e lo facciamo per un mese e quando siamo abituati passiamo a due bocconi, riusciamo pian pianino, nel lungo tempo e in modo stabile a ritornare a delle dosi giuste. Questo perché? Perché è il discorso di prima, l'abitudine è fortissima nel bene e nel male. Dobbiamo imparare a usarla a nostro vantaggio. Per chi è particolarmente curioso la regola dell'1% fondamentalmente dice che se tu hai 1 e aumenti dell'1% questo valore costantemente per un anno a fine anno quel tuo 1 è diventato 37,4 cioè facciamo finta un pasto il nostro pasto vale 1 se io tutti i giorni lo aumento di un centesimo un centesimo 100 grammi di carne vuol dire 101 grammi oggi 102 grammi domani e avanti anzi in realtà non è proprio così preciso ma facciamo finta arriveremo a fine anno 365 giorni dopo che nel piatto avremo 374 grammi di carne o di pasta o di pane o di quello che volete ed è pazzesco è tantissimo allo stesso modo se partiamo da 1 e tutti i giorni togliamo un centesimo 1% nel giro di un anno quell'1 sarà diventato 0,024 cioè pochissimo e questo ci aiuta a sradicare invece le cattive abitudini dobbiamo renderci conto di come ci voglia costanza e piccoli cambiamenti per arrivare a fare qualcosa di veramente grande se il video ti è piaciuto lascia un like e condividilo su tutti i tuoi social se i miei contenuti per te sono stati particolarmente importanti e utili puoi lasciarmi un super grazie o abbonarti al canale per sostenermi anche economicamente qua vostra destra e mia sinistra trovate il link di altri miei video che potrebbero interessarvi e qua sotto il link al canale dei viaggi in moto che faccio con la Fra e un altro canale dove parlo di tutto tranne che di moto e di obesità ciao a tutti e al prossimo video